Lo avverte chi ha fame? Languorino, languore! Eh, c'ho sempre fame io! Sì, sì, ma a me, no, mi fai paura tu, non il languore. No, non te magno, non mozzico. Juan, preparati, quattro secondi. Ce li hanno alcune scale al posto dei gradini. Violi! L'ho detto di preparate, non di... Eh, guarda, sono sulla... Sì, 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 sui violi. Juan, sempre più veloce. Periodo di passaggio tra infanzia ed età adulta. Guarda! Non si sente, basta che lo sento, non è là. Sono qua a scattare. Io ho sentito orta. Pubertà! Pubertà, pubertà. Pubertà, pubertà. Pubertà, pubertà. Meraviglioso, meraviglioso. Sempre più veloce, Juan, in barca aria. E ma dove devo prendere l'aria? In cute timore! Ehm, non lo so. Spauracchio! Bravo! Viola, fermi, zitti. Tradizionale bambolina russa. Matroska! Fai un altro miracolo se puoi. Fratello e gemello di Castore! Primo! No, no, non c'entra niente. Polluce! Castore Polluce! E la sapeva.